La vita di una regione raccontata in bianco e nero. Fino all'11 marzo, nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris, sono esposte un centinaio di fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memoria in bianco e nero, il Piemonte com'era quando nacque la regione. Il mondo contadino di ieri e di oggi fra spiritualità religiosa ed etica della Terra. Questo è il tema della mostra 1815-2015, 200 anni di civiltà contadina tra saperi e spiritualità, proposta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale a Torino in via Arsenale, fino al 19 febbraio.